Il sindaco Silvia Marchionini, gli assessori della sua giunta e il presidente del Consiglio Comunale Gian Domenico Albertella devolveranno un mese di indennità al Fondo per la Solidarietà e Rilancio di Verbagna. Sindaco, Vice Sindaco, Assessori, Presidente, in pratica rinunceranno a uno stipendio per sostenere e lanciare un fondo che sarà probabilmente istituito alla Fondazione Comunitaria del VCO e che si chiamerà Verbagna Solidale. Il fondo sarà destinato a commercianti, imprese, artigiani, partite IVA disoccupati per aiutare il rilancio delle attività e dare una mano alle persone in difficoltà della città. Un fondo che sarà istituito con un apposito capitolo di bilancio del Comune e che sarà alimentato, afferma il sindaco Silvia Marchionini, da necessarie variazioni di bilancio e speriamo dalla generosità di chi può contribuire. Per questo i primi versamenti su quel conto arriveranno dalla Giunta e dal Presidente del Consiglio Comunale con il versamento di una mensilità dell'indennità di carica. Un'iniziativa come da proposta delle forze consigliere di maggioranza e opposizione che vede già l'appoggio del Presidente della Fondazione Comunitaria, Maurizio De Paoli. Al più presto saranno comunicate le modalità per contribuire al fondo che dovrà sostenere chi si trova in difficoltà e in carenza di liquidità. Speriamo che assieme agli sforzi e gli incentivi del Governo e della Regione, si legge nella nota dell'amministrazione comunale, si possa porre rimedio alla crisi economica generata da questo stop forzato della gran parte delle attività produttive, commerciali e turistiche. Noi proveremo a fare la nostra parte.